L'ho chiamato il cazzo patata perché la patata in effetti è molto particolare, sempre in dubbio se classificarla come ortaggio, come cereale, è un tubero, è molto particolare, rientra nel gruppo delle 4 P, pane, pasta, pizza, però ha differenze notevoli. Allora ho classificato le prime 3 P da una parte, pane, pasta, pizza, versus contro l'ultima P, le patate. Analizziamo un po' i parametri, per esempio le calorie che è quello che ci interessa di più, pane, pasta, pizza, siamo sui 320, 340, 360 calorie per 100 grammi, a seconda delle tipologie, lo sapete già. Invece le patate hanno una quantità calorica nettamente più bassa perché la patata lessa e raffreddata, bollita e raffreddata, a 70 calorie per 100 grammi. La patata cotta al microonde ce n'ha 95-100. La patata che friggiamo noi in casa e la frittura è un metodo anche sano, se volete ne possiamo parlare, io ho fatto delle diapositive intitolate Fritto e Bello, d'accordo? Dicevo la frittura fatta in casa fa raggiungere un peso calorico di 180-190 per 100 grammi, la patata fritta fatta in casa. La patata fritta industriale lasciamo perdere perché lì arriviamo a quote astronomiche fino a 500 calorie per 100 grammi perché è un junk food, è un cibo spazzatura. Per quello che riguarda l'indice glicemico è ovvio che la patata ha un indice glicemico più alto rispetto alla pasta, pane, pizza, al gruppo delle tre, però anche qui rientrano in campo tante variabili per cui è una cosa di cui direi di non tenere conto. E poi c'è l'indice di sazietà, quello è molto importante, la patata a parità di peso sazia molto di più, tre volte tanto rispetto a pane, pasta, pizza e questo mi sembra un dato molto importante e molto interessante. Come vanno consumate? Prima di tutto le migliori sono quelle bollite e quindi lesse e lasciate raffreddare, lessate a temperature basse e prolungate e lasciate raffreddare e consumate dopo due, tre, quattro, cinque ore una volta che l'avete condite con modiche quantità di olio extravergine, un po' di sale povero, sale iodato o sale senza sodio e prezzemolo e altre specie che non influiscono sulle calorie. Possono essere cotte al forno, non le cocete più di tanto, evitate la parte scura che è tanto buona di abbrustolirle, sono buonissime però lì si sviluppa l'acrilammide che è una sostanza cancerogena, quindi state attenti a questa cosa. Possono anche essere fritte, lo abbiamo già detto e la frittura domestica eseguita bene è una frittura tutto sommato che ci perdona dal punto di vista delle calorie. State attenti che se le consumate a distanza, cotte a pranzo le consumate a cena o addirittura il giorno dopo, state attenti perché aumentano i carboidrati, perché diminuisce la quota di amido resistente e si sviluppano anche sostanze diciamo che possono avere degli effetti negativi sulla digestione. Aumenta per esempio l'acrilammide se si tratta di patate arrosto. Come è utile mangiarle? Lo vedremo dopo con la patata dolce americana, anche con la buccia ci sono dei metodi di cottura che ne conservano la buccia, non con la patata dolce americana, con la patata rossa del nord. Ho sbagliato. Esistono a questo proposito, ho fatto un elenco dei vari tipi di patate, no? La migliore, anche qui ci poniamo sempre il dubbio, la domanda c'è la migliore, c'è la peggiore? Ci sono 3000 tipi e specie diverse di patate. Noi abbiamo una certa confidenza con che cosa? Con le patate a pasta bianca, le patate a pasta gialla, con le patate rosse, con le patate viola e con la patata blu e con le patate dolci americane che sono le ultime arrivate e sono fra l'altro anche quelle da tenere in una certa considerazione. Ora, questa ultima, la patata dolce, non appartiene alle famiglie delle solanacee. Tutte le patate appartengono alle solanacee come i peperoni, le melanzane, i pomodori. Quest'ultima, la patata dolce americana, fa parte delle convolvolacee, cioè è una famiglia, un gruppo che ha delle particolarità e delle peculiarità tutte sue. Che c'è da dire? La patata rossa e la patata viola hanno i colori, quindi avete già capito che sono ricche di antiossidanti che combattono i radicali liberi, cioè il colore come nell'uva, come nella fragola, eccetera, il verde, il rosso, il giallo, il blu, il viola, sono i colori che la natura ci dà perché hanno un effetto antiossidante, quindi combattono i radicali liberi, quindi hanno un effetto anti-age, cioè combattono l'invecchiamento della pelle, delle cellule, eccetera, eccetera. Hanno anche dei nomi d'arte, la patata viola si chiama Velvet Queen, la patata blu si chiama Blue Star, ma non è che ci siano molte differenze. Quella che si differenzia dal gruppo è appunto la patata dolce americana, cosiddetta patata, l'ultima nata. Perché? Perché questo ha un indice glicemico molto più basso e ha poche sostanze antinutrienti. Le sostanze antinutrienti sono delle sostanze che presenti nelle patate che ne garantiscono la conservazione a lungo perché impediscono l'attecchimento di batteri, di funghi, impediscono che marciscono. La patata dolce americana ne ha di meno di queste sostanze antinutrienti, quindi si conserva un po' meno rispetto alle altre. Le famose patate cacchite sono patate da non mangiare perché lì oltre ad avere più sostanze antinutrienti avete anche dei veleni, un veleno di questi si chiama Solanina che può dare anche parecchi fastidi se vengono consumate. Io con le patate avrei finito, ci sentiamo per l'ultima parte fruttosio e pseudocereali.